Bentornato guerriero, finalmente il 16 novembre è stato confermato l'uscita di Warzone 2, insieme a Warzone 2 vedremo la modalità nuovissima DMZ, una sorta di simil Tarkov simulativo che ci porterà ad esplorare ancora più approfonditamente la nuova mappa al Mazra che ci vedrà come potete vedere in un spettacolare environment, in un ambiente bellissimo pieno di dettagli, pieno di punti di interesse nuovi da esplorare come le fortezze dove troveremo del loot di altissimo valore e dove ci sarà di nuovo il loadout che potremo prendere per poter avere le nostre armi preferite per fightare contro i nemici, quindi rimanete collegati a questo canale e passatemi a trovare sul canale twitch tv slash bitlocker se volete farvi una partita insieme, qui ci saranno oltretutto poi impostazioni grafiche da mantenere per avere il massimo dell'FPS e a questo punto rimani ancora più collegato a questo canale, preparati a dropparti su Warzone 2, per il momento guerriero questo è tutto, keep fighting, alla prossima! Grazie a tutti!